E' un'energia davvero alternativa e disponibile. Con la E' sosteniamo il presente e il domani di tutto il paese. E lo facciamo da 70 anni. E' l'energia di sempre e l'energia nuova. La Fondazione Trame e l'associazione Anti-Racket vi danno il benvenuto a Trame, il festival dei libri sulle mafie. Il festival è realizzato con il sostegno di Comune di Lamezzeterem, di Coffcommercio, Imprese per l'Italia, Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, Eni, Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valencia, Banca Credito Cooperativo e con il sostegno della regione Calabria, Calabria straordinaria. L'apporto Ecomafia è il titolo del prossimo incontro. Enrico Fontana e Gianni Arena ne parlano con Viviana Spinella. Potrete partecipare al racconto collettivo del festival sui nostri canali social, utilizzando l'hashtag Trame12. Ancora grazie e buon proseguimento. Grazie. Allora, siamo ospiti di questo pomeriggio con Trame, che dà sempre spazio, anche quest'anno, alla sostenibilità ambientale. L'ambiente come risorsa da tutelare, ma anche come una risorsa che suscita gli appetiti, che stimola gli appetiti delle organizzazioni criminali. Lega Ambiente è in prima linea da oltre 40 anni su questo fronte. Siamo qui, lo diceva il ragazzo prima, con Enrico Fontana, responsabile nazionale dell'osservatorio Ambiente e Legalità di Lega Ambiente, e con Gianni Arena di Lega Ambiente Calabria. La presidente, Anna Parretta, non è potuta essere qui con noi per un problema. Allora, diamo subito la parola a Gianni Arena per un saluto. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti. Io sono molto contento, da un lato, di poter sostituire Anna Parretta, dall'altro lato mi dispiace molto che la sua assenza in questa fortunatissima edizione di Trame, purtroppo non la possa vedere protagonista. La sostituirò indegnamente, ma visto che si tratta di un appuntamento che coinvolge la mia città, do il benvenuto ad Enrico Fontana, un caro amico di Lega Ambiente, già direttore, ancora direttore della Nuova Ecologia? Lo sono stato. Quindi avevo detto bene, già direttore della Nuova Ecologia, che è la rivista nazionale di Lega Ambiente, è un dirigente nazionale dell'associazione che è riconosciuto ai più alti livelli, proprio per il suo impegno, ma è venuto meno nella tutela dell'ambiente e nella lotta alla criminalità. Ecco, la presenza di Lega Ambiente si fonde con quella di Trame, perché è, come abbiamo già avuto modo di dire in altre passate occasioni, è dall'inizio che l'associazione affianca Trame nella gestione dell'evento. Quindi, ecco, quale occasione migliore, quella della nostra città, di un evento del genere, per poter rappresentare la nostra associazione, è quello che noi cerchiamo di fare con le nostre manifestazioni. Cerchiamo di essere attenti al rispetto dell'ambiente, a far sì che anche i giovani possano avvicinarsi a questo settore, proprio perché l'ambiente ultimamente, così come Enrico Fontana spiegherà da qui a breve, e lui ricordiamo che ha coniato il termine eco-mafie, e quindi l'ambiente è appetito purtroppo dalla criminalità organizzata. Noi saremo sempre, nei termini in cui lo abbiamo già fatto, vicini a Trame, perché il rispetto dell'ambiente sicuramente favorirà un mondo in cui le mafie dovranno prima o poi essere sconfitte. Quindi benvenuti a tutti quanti e grazie. Grazie Gianni. Allora, noi siamo qui con il responsabile nazionale dell'osservatorio Ambiente e Legalità, ma non possiamo, prima di dare alcune anticipazioni che volevamo fornire in merito al rapporto eco-mafie 2023, non possiamo non partire da una notizia dell'ultima ora. L'arresto dell'assessore regionale dell'ambiente, Marcello Minenna, un arresto che, lo dobbiamo dire, non è legato alla sua azione politica qui in Calabria, ma da responsabile dell'Agenzia Dogane Monopoli. Un arresto per corruzione, adesso si trova ai domiciliari, che scenario può rappresentare questo per l'ambiente nella nostra regione? Beh, certo, non è una buona notizia. Ora, i fatti di cronaca sono relativi all'attività di indagini che nascono in Emilia Romagna, la direzione distrittuale antimafia di Bologna, la procura di Forlì, quindi non hanno a che fare con il suo lavoro da assessore all'ambiente in questa regione, che mi sembra un po' complicato possa proseguire, o avere un assessore all'ambiente agli arresti domiciliari, insomma, mi sembra un problema. Il che non è una buona notizia, lo dico al prescindere dall'idea di ognuno, perché l'ambiente ha bisogno, soprattutto nelle politiche di amministrazione pubblica, di continuità. Uno dei difetti che ci sono nelle gestioni delle politiche ambientali nel nostro Paese è il continuo cambiamento di scenario ogni volta che cambia qualcuno che guida un'amministrazione locale. Questo alle politiche ambientali non fa bene, perché devono durare nel tempo. Devono essere coerenti e dovevano durare nel tempo. L'ambiente poi dovrebbe essere a tutela ambientale, una cosa che va al di là delle appartenenze di partito, perlomeno nel nostro auspicio è così. L'ambiente ogni volta che è presente il rapporto con mafia fate le proposte, le abbiamo fatte a tutti i governi, di centro-sinistra, di centro-destra, istituzionali, e non abbiamo fatto sconti mai a nessuno. Come abbiamo riconosciuto sempre a ognuno il merito quando queste proposte venivano accolte, quindi lo ripeto non è una buona notizia. Peraltro non è l'unica non buona notizia, perché di ieri il sequestro della discarica di rifiuti solidi urbani di San Giovanni in Fiore, oggi c'è stato un ulteriore intervento in un'altra discarica che è quella di Scalacelli, sembra per la rottura di un tubo che serve a captare il percolato delle discariche, la prima discarica invece è stata chiusa per sversamenti illegali di questo percolato, che è una delle sostanze pericolose che si generano anche nella gestione dei rifiuti urbani, direttamente in un torrente, quindi c'è materia di cui parlare. La cronaca, l'attualità ci impone delle riflessioni ulteriori, anche una settimana fa l'inchiesta Fangopoli della Procura di Catanzaro, 40.000 tonnellate di rifiuti sversati, bruciati, interrati, insomma una minaccia costante che il rapporto ecomafia, che ogni anno lega ambiente pubblica vuole sviscerare in tutti i suoi aspetti, perché ricordiamolo, la criminalità ambientale ha vari aspetti che adesso ti chiederò di spiegare bene, ma intanto il nuovo rapporto verrà presentato l'11 luglio a Roma, però so che tu sei in grado di anticipare per la Calabria alcuni dati fondamentali che riguardano i rifiuti. Sì, è così, d'accordo con Tram e con il festival, abbiamo pensato di anticipare rispetto al rapporto ecomafia che presenteremo a Roma l'11 luglio alla Sala della Regina presso la Camera dei Deputati, quindi in un luogo istituzionale, i dati relativi al ciclo illegale dei rifiuti, perché è quello che suscita anche più attenzione da parte delle persone. Nel 2022 l'attività delle Forze dell'Ordine e delle Capitanie di Porto ha portato all'individuazione di 344 reati in Calabria nel ciclo dei rifiuti, più o meno un reato al giorno, cioè ogni giorno uno dei fatti di cronaca che voi avete ascoltato ora sintetizzati da noi, può essere il sequestro di una discarica abusiva, un'attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, una questione legata ad un appalto in un comune, la gestione illecita dei rifiuti industriali, 387 persone denunciate per i reati nel ciclo dei rifiuti in Calabria, 14 ordinanze di custodia cautelare e 148 sequestri. La Calabria è stabilmente nei primi cinque posti della classifica nazionale, insieme a Campania, Sicilia, Puglia e Lazio, perché la regione da cui vengo io è Lazio e la provincia da cui vengo io è Roma, nel corso del tempo si è conquistata dei primati, ma per darvi un altro elemento legato al territorio, ecco, qual è in Calabria la provincia più colpita da questi fenomeni illeciti? È quella di Cosenza, 106 reati nel ciclo dei rifiuti sono stati accertati in questo territorio, in provincia di Cosenza, e proprio in provincia di Cosenza, dalla provincia di Cosenza arrivano quei due fatti di cronaca che avevo accennato prima, seguita da Reggio Calabria e poi da Vibo Valencia. Abbiamo portato anche i dati degli ultimi cinque anni, per riflettere insieme, o questi sono dati che vengono ufficialmente dalle forze dell'ordine e dalle capitanie di Porto, quindi sono anche il risultato del loro lavoro straordinario, ci tengo a dirlo, perché questa è la risposta dello Stato, sono i numeri che fotografano la risposta dello Stato, sono quasi tutti reati d'impresa, cioè non stiamo parlando di reati che sono il frutto del malcostume dei cittadini, quando si parla di abbandono dei rifiuti non sono i sacchetti abbandonati lungo la strada, che è un reato comunque ma è un atto di inciviltà, qui parliamo di reati d'impresa, dal 2017 al 2021 in questa regione le forze dell'ordine e le capitanerie di Porto hanno accertato oltre 14.000 reati contro l'ambiente, sono state denunciate più di 12.000 persone e ne sono state arrestate 209, l'attività illecita più pesante è quella legata al ciclo del cemento, se ne parla poco, il ciclo del cemento significa dalle cave abusive alle costruzioni illegali, dai reati nell'urbanistica a quelli negli appalti, di gran lunga la filiera più preoccupante, dove peraltro le connessioni con la criminalità organizzata sono molto significative, e di nuovo anche dal punto di vista complessivo dei reati ambientali e del ciclo del cemento la provincia più interessata è quella di Cosenza. C'è un altro dato che mi ha colpito leggendo i numeri degli ultimi anni, anche se veniamo da una stagione per fortuna quella del 2022 in cui gli incendi boschivi si sono significativamente ridotti in tutto il paese per ragioni medioclimatiche ma anche per un'azione di prevenzione e repressione più efficace, ce l'abbiamo registrata nei dati. Però pensate, non so che effetto fa a voi, a me ha colpito molto scoprire che dal 2017 al 2021, qui in Calabria, sono state trasformate in cenere oltre 87.000 ettari, oltre 87.000 ettari di superfici boschive e non boschive, vicino ai boschi. Per darvi un'idea, nel 2022 in Italia, tutta l'Italia ne sono state incenerite circa 70.000, poco meno di 70.000, è come se fosse andato a fuoco in una sola regione, in cinque anni tutti i boschi sono stati bruciati in Italia. Impressionante. E nello scorso anno, quando vennero fuori i numeri degli incendi boschivi relativi alla drammatica stagione del 2021, noi nel 2021 facemmo anche un lavoro di analisi, e concludo, cercando di capire le cause degli incendi boschivi, possono essere molte, ma insomma c'era una curiosa coincidenza tra i comuni sciolti per mafia, la mappa dei grandi dell'Andrangheta fatta dalla Direzione Investigativa Antimafia, e i boschi. Ecco, se ne parla poco, ma l'Andrangheta non è soltanto una zavorra, è qualcosa di più. L'Andrangheta non avvelena soltanto l'economia, non è soltanto responsabile di estorsioni, violenze ferrate, traffici di droga. L'Andrangheta è l'assassina dell'ambiente in Calabria. Cioè se c'è un soggetto che ha una responsabilità più forte delle altre per il saccheggio sistematico del patrimonio naturale di questa regione, è l'Andrangheta, in tutte le sue articolazioni. Perché ne ricava direttamente profitto, dall'avvelenamento dei terreni, e trova connivenza e complicità. Perché poi l'ecomafia che cos'è? Nient'altro che il punto d'incontro, tra criminalità organizzata di stampo mafioso, criminalità ambientale e criminalità economica. Ecco, questi tre soggetti messi insieme definiscono il perimetro dell'ecomafia. E in questo perimetro, in Calabria e non solo, l'Andrangheta ha scalzato la camorra dal punto di vista dell'impatto criminale sull'ambiente nel nostro paese. La camorra è stata la prima organizzazione mafiosa a sfruttare il traffico legale di rifiuti. l'Andrangheta ha fatto di più. Molte indagini, anche in Lombardia, hanno svelato l'interesse diretto di grande l'Andrangheta nei roghi dei rifiuti ammassati nei cabannoni abbandonati della Lombardia. È cresciuto anche il mezzogiorno. Quindi noi, quando premiamo i comuni ricicloni, l'abbiamo fatto anche qui in Calabria, cerchiamo di raccontare le storie in positivo, ma è che con lo stesso spirito che denunciamo dal 94 i fenomeni criminali. Non lo facciamo per suscitare allarme, perché la realtà, soltanto a guardarla, altro che l'allarme delle nostre parole. Le nostre parole sono parole. La sostanza è quella che deve preoccupare, quella che dovrebbe interrogare le coscienze, la sostanza. Ma chi ci vive in questi territori lo sa, non ve lo devo spiegare io. Basta guardarsi intorno per capire quello che è successo e quello che ancora succede. Siamo meglio difesi dal punto di vista della magistratura e delle forze dell'ordine, purtroppo scontiamo ancora in Italia un deficit di politiche. A proposito, ti volevo chiedere, la politica. Voi, quando avete scritto, avete pubblicato il rapporto 2022 di Ecomafie, il governo Meloni si era da poco insediato, avete chiesto l'istituzione della commissione Ecomafia bicamerale. Questa commissione è stata partorita con una legge in Senato poco tempo fa, deve ancora, credo, diventare operativa. Si occuperà però anche di nuove tipologie di rifiuti nella legge, è stato indicato, quindi anche quelle dalle energie rinnovabili, è un controllo sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si aprono quindi dei nuovi scenari con ritardo oppure no? Con ritardo ne aprono anche un altro, su cui la politica è in ritardissimo, che è quello delle filiere agroalimentarie. Nonostante sia stato approvato dal governo di allora nel 2020 il disegno di legge che introduce i nuovi delitti a tutela del patrimonio agroalimentare italiano, dal falso Made in Italy per capirci al disastro sanitario, all'uso illegale di pesticidi in agricoltura, quindi pesticidi fuori legge, tutte questioni che non sono sanzionate. Ci ha lavorato una commissione preseduta da Giancarlo Caselli per anni, hanno elaborato un testo di legge, il testo di legge è stato approvato dal governo, è arrivato in Parlamento e come capita purtroppo è inabissato, quindi poi si è sciolta la legislatura. Noi l'abbiamo chiesto con forza, ci aspettiamo da questo governo, anche per quello che dichiara pubblicamente l'imbitisto dell'agricoltura, ebbè che questo disegno di legge lo ripresentino, per ora è stato ripresentato dall'ex procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero de Rau, lo ripresentino anche le forze della maggioranza e lo approvino nell'interesse nostro di cittadini. La commissione che tu hai citato si dovrà occupare anche dei reati agroalimentari ed è una delle principali proposte che abbiamo fatto nel 2022 quando abbiamo presentato il rapporto Ecomafia, registrando anche qui un segnale positivo invece per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale. Ora ho già dato un'anticipazione sui rifiuti, non posso permettermi di anticipare altro, però una cosa la posso accennare, è stato introdotto nel codice penale un titolo che è quello a tutela del patrimonio culturale, anche quello era sprovvisto di tutele, quindi da chi saccheggiava i siti archeologici, i furti di arte, eccetera, c'erano reati veramente ridicoli, questi ovviamente accumulano profitti enormi. Da quando è stato introdotto quel delitto, questi delitti sono diventati delitti veri nel codice penale italiano, anche lì una riforma culturale, e sono aumentate le inchieste. Quindi noi daremo conto di questo risultato positivo. Perché è positivo? Perché pensiamo che siano risultati positivi? Non perché abbiamo un approccio qualche volta c'è stato rimproverato in termine tecnico pan penalista, cioè noi non pensiamo che col codice penale si risolva tutto, no, il codice penale funziona di fronte a fenomeni patologici, però, ma chi ce lo difende il patrimonio culturale nostro da chi lo saccheggia impunemente e lo derubba? Chi lo difende? Cioè chi deve difenderlo? I cittadini? Le forze dell'ordine e la magistratura? Chi deve difendere l'ambiente da chi lo saccheggia e lo devasta? I cittadini? E le forze dell'ordine e la magistratura? E lo stesso discorso si può fare per il patrimonio culturale. Cioè questi sono beni prioritari del paese, sono beni comuni e devono essere tutelati e difesi dallo Stato. Poi i cittadini danno il loro contributo, danno una mano, fanno i volontari, si spendono, l'ambiente lo fa, puliamo spiagge, facciamo di tutto, esposti, denuncia. Eh ma santo Dio c'è lo Stato, c'è lo Stato deve battere un colpo. E il fatto che questi delitti siano stati via via introdotti nel codice penale e altri devono essere introdotti è una riforma di civiltà. Queste sono tutte riforme di civiltà. significa che per gli italiani e le italiane difendere l'ambiente, ora è anche in Costituzione, all'articolo 9 della nostra Costituzione e all'articolo 41 quello che regola l'attività di impresa, difendere l'ambiente è una priorità delle istituzioni. E' questo diciamo un po' lo spirito con cui noi facciamo questo lavoro ogni anno. Spesso però ci sono diciamo delle frizioni che si creano tra società civile, tra impegno ambientalista e le decisioni dello Stato. Non possiamo non citare in questa terra il ponte sullo stretto. Un argomento che è al centro del dibattito politico che suscita reazioni delle più disparate. Ecco, l'Egambiente, qual è la posizione di l'Egambiente e le manifestazioni qui si stanno svolgendo tra una sponda e l'altra, quella di Reggio e quella di Messina sono quasi all'ordine del giorno. Il movimento No Ponte è in prima linea, l'Egambiente immaginiamo da che parte sta ma spiegacelo tu. Io penso che sia una questione di buonsenso, ora lo dico proprio in maniera molto semplice, di buonsenso. Se uno applica alla questione del ponte sullo stretto di Messina il buonsenso di una mamma e di un padre di famiglia, non può che arrivare alla stessa conclusione. Noi siamo in presenza di due territori, la Calabria e la Sicilia, che dal punto di vista della mobilità delle persone e delle cose sono in condizioni vergognose, non ho altri aggettivi per descriverlo. Non ci vivo, voi ci vivete, ci vengo per lavoro, lo sapete, non ve lo devo dire io. Immagini di ponti, di viadotti appena fatti che per un alluvione vengono giù. Longo book, cioè non lo devo dire io. 14 ore per andare in treno da un capo all'altro della Sicilia, 14 ore di treno. Allora, se tu applichi il buonsenso e questo è quello che ha sempre detto l'Ecambiente, il buonsenso avrebbe dovuto convincere i governi precedenti e quelli attuali a risanare le infrastrutture della mobilità della regione Calabria e della regione Sicilia per rendere gli attraversamenti regionali, le connessioni tra una città e l'altra, le connessioni tra la Calabria e la Sicilia, tra la Sicilia e l'Italia più umane, più fluide, più efficaci, il ponte sullo stretto di Messina non solo è inutile da questo punto di vista ma rischia di distogliere l'attenzione e poi non capisco dove prenderanno i soldi per farlo, comunque di distogliere le risorse pubbliche da quello che serve e noi ci siamo, siamo costretti di nuovo a manifestare contro il ponte sullo stretto che è già costato più di un miliardo di euro solo di oneri per la società che in teoria lo dovrebbe dovuto progettare e per studi di progettazione, noi siamo costretti a fare di nuovo manifestazioni che non vorremmo fare perché l'ambiente vorrebbe manifestare in Calabria e in Sicilia per l'alta velocità ferroviaria, per il rifacimento delle infrastrutture stradali come Dio comanda, per la sistemazione delle infrastrutture portuali, per l'acquisto dei nuovi traghetti, quelli che evitano il cambio di ponte quando arriva un treno che deve essere trasferito semplicemente da una costa all'altra, noi vorremmo fare queste manifestazioni, le faremo di protesta perché le cose che devono essere fatte non le fanno, però sarebbe diverso manifestare per la Calabria che entra nella civiltà dal punto di vista dei trasporti pubblici, per i trasporti pubblici in Calabria, pensa che bella manifestazione, per i trasporti pubblici in Sicilia, invece dobbiamo fare la manifestazione contro, la manifestazione no al ponte sullo stretto e sembriamo tanti Don Quixote contro i mulini a vento perché di questo ponte l'unica cosa che si è vista fino ad ora sui plastici che cambiano pure, ora diventa un ponte a una campata, poi è stato sommerso, poi era tre campate, l'ironia sugli ambientalisti che si preoccuperebbero del fatto che gli uccelli migratori si vanno a sbattere sul ponte, ora i reati contro la fauna in Calabria negli ultimi cinque anni ne sono stati commessi oltre 2200 sono state denunciate per reati contro la fauna in questa regione 2200 persone, qual è la provincia più interessata dai reati contro la fauna? Reggio Calabria, quindi non è il ponte sullo stretto che impedisce, non abbiamo quest'ansia, magari negli studi emergerà pure, ma non è la nostra principale preoccupazione, pur rispettando gli animali, la nostra principale preoccupazione è che in cinque anni dal 2017 al 2021 nella provincia di Reggio Calabria che è quella dove passano le specie migratorie sono stati accertati 1280 reati contro la fauna, cioè nonostante i passi in avanti fatti si continua a sparare, si continua a fare bracconaggio, anche questo delitto che nel codice penale non c'è, adesso è stata inserita in costituzione la tutela degli animali, la legge dovrà provvedere quindi ci aspettiamo delle novità, però per risponderti, le manifestazioni si fanno, sono partecipate, le cambiante c'è, ma non vorremmo farle. E invece sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sarà un nuovo capitolo Eco Mafia su questo, cosa bisogna temere di più, quali tipi di infiltrazioni possono annidarsi in questa pioggia di soldi che dovrebbero arrivare, ogni volta si parla arriveranno, arriveranno, tra l'altro sono tutti progetti che dovrebbero concludersi entro il 2026, però ancora abbiamo visto veramente realizzato poco. A me è sorpreso anche ascoltare il numero dei soldi che sarebbero già stati spesi, 25 miliardi, perché non so se, ma voi li avete visti? A me è venuto, eh? A me è venuto il dubbio, cioè, sì, sono stati già spesi 25 miliardi, dove? No, su questo, al di là delle battute, noi siamo fortemente preoccupati, abbiamo fatto insieme a Libera, alla CGL, ad una serie di altre associazioni, un appello forte al governo quando si discuteva della riforma del codice degli appalti, perché non venissero adottati i provvedimenti sul subappalto a cascata, cioè uno dietro l'altro, perché non venissero smontati i meccanismi di controllo per le gare d'appalto fino a 5 milioni di euro, 5 milioni di euro significa oltre il 90% di ciò che si appalta in Italia, verrà fatto senza gare d'appalto, cioè questa idea della semplificazione alla quale noi siamo favorevolissimi, deve essere fatta con raziocinio, la preoccupazione è forte, basta ascoltare quello che dichiara il presidente dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, BUSIA, per non sentire le cambiate, noi siamo in fondo un'associazione, quindi, insomma, lui è il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione e ha detto parole molto dure, molto preoccupato di questo allentamento dei controlli, o quelle recentissime del procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, anche lui, sul piano nazionale di ripresa e resilienza, perché è chiaro se, soprattutto nel mezzogiorno, ma non solo, questo flusso di risorse pubbliche non viene incanalato nelle cose giuste da fare innanzitutto, ma anche se sono giuste da fare, lungo una strada che porta anche il PNRR ad avere la fedina penale pulita, per dirla con una battuta, il rischio che le risorse finiscano per far arricchire i clan dell'Andranghara, Cosa Nostra, Camorra, Sarca Corona Unita, imprenditori collusi con loro e corrotti sono altissimi, dobbiamo stare molto attenti e l'Europa non ce lo perdonerebbe, forse non si sono ancora resi conto gli altri, io ne sono consapevole e penso che tante persone ne siano consapevoli, questa è un'occasione irripetibile per l'Italia ma quando diciamo un'occasione irripetibile diciamo anche una cosa rispetto alla quale se l'Italia sbaglia all'Italia questa cosa non verrà perdonata perché per la prima volta si mette mano a risorse molto ingenti a fondo perduto e per la prima volta ancora di più si usa un meccanismo che è quello diciamo così del debito pubblico europeo anche se è una definizione errata dal punto di vista tecnico, però è questo è cioè anche gli investimenti che vengono fatti per poi essere restituiti sono garantiti dall'Unione Europea quindi per questo c'è preoccupazione è un'occasione irripetibile bisogna accelerare guardate la vicenda delle energie rinnovabili su questa magari ci dedico giusto 5 secondi in più allora noi penso che anche lì il buonsenso l'Italia se vuole uscire dalla dittatura delle fonti fossili abbiamo capito che significa dittatura delle fonti fossili significa dipendere da fornitori come è stato per lunghi anni decenni anzi come la Russia che poi aprono una guerra in Ucraina e fanno schizzare alle stelle il prezzo del gas ma non è che stiamo tanto più tranquilli se dalla Russia diventiamo dipendenti dall'Egitto o da altri stati dove la democrazia è un ectoplasma uscire dalla dittatura delle fonti significa investire sulle energie rinnovabili e qui c'è anche un problema interno al nostro mondo perché nel nostro mondo parlo degli ambientalisti c'è il rischio che scatti un riflesso condizionato per cui non si può fare nulla non si può fare nulla se c'è qualcosa che c'è il rischio sia stata fatta male anche sulle energie rinnovabili anzi è accaduto diventa la totalità per cui non si fanno più impianti eolici perché gli impianti eolici devastano il paesaggio qui c'è anche diciamo Vittorio Sgarbi che da sottosegretario della cultura ormai si è intestato questa battaglia soprattutto ora il paesaggio in Italia lo stanno devastando i cambiamenti climatici cioè se andate a parlare con un cittadino oggi un agricoltore della provincia di Ravenna e gli dite se è disponibile a vedere delle pale eoliche offshore nel mare Adriatico a non vedere più le piattaforme petrolifere perché capisce che se esce dal fossile i disastri che l'hanno messo in ginocchio saranno più rarefatti non è detto che si azzerino questo non è più possibile ma non così gravi perché finalmente ce l'avremmo fatta a raggiungere l'obiettivo delle emissioni zero al 2050 e a ridurle al 2030 in maniera significativa ma vanno fatte le energie rinnovabili in Italia per avere un impianto eolico offshore a largo di Taranto ci sono voluti quasi più di 12 anni 12 anni poi per autorizzare un un impianto diciamo di ricassificazione a Piombino ci hanno messo sei mesi ecco a noi questo questo dà un po' l'idea delle discrepanze no? cioè di nuovo no? c'è il gas come alternativa è credibile il gas come alternativa alle fonti rinnovabili seriamente? no non è credibile lo dicono i numeri lo dice anche un minimo di buonsenso però le energie rinnovabili vanno a rilento sulle energie rinnovabili di nuovo capita che facciano affari più velocemente le mafie che lo Stato e le imprese e per le autorizzazioni degli impianti vecchi e desueti invece si procede a sprombattuto ecco quindi adesso speriamo che questa vicenda il ministro dell'ambiente Pichetto Fradine ha annunciato l'approvazione di un decreto che andrà a definire le aree idonee dove installare le energie rinnovabili dall'agrivoltaico quello che si fa senza consumare solo agricolo perché si può fare biodigestori alle oligo offshore insomma quello di cui il paese ha bisogno per accelerare perché dobbiamo accelerare e stare attenti anche perché lì di nuovo c'è una cosa che ripete spesso Don Ciotti e che voglio prendere in prestito perché lui l'ho intervistato anche recentemente dice le mafie hanno un principio assoluto il mafioso si rigenera cioè hanno una capacità di rigenerarsi Matteo Messina De Naro aveva tra i suoi industriali di riferimento imprenditori di riferimento tal Vito Nicastri conosciuto come il re del vento il re dell'eolico che è ancora sotto processo per concorso esterno in associazione in quelli di San Pogna Fioso quindi è innocente fino a sentenza però invece ha già concordato con danni per corruzione lì si è addirittura collaborato con la magistratura che era diventato il re dell'eolico in provincia di Trapani ma nel 2007 un anno dopo l'approvazione degli incentivi da parte del governo già avevano messo in piedi un meccanismo per sfruttare la loro capacità di controllare il territorio quindi bisogna avere gli occhi aperti averli aperti davvero Da noi qui in Calabria c'è un progetto che ha fatto molto discutere che è il raddoppio del termovalorizzatore della seconda linea del termovalorizzatore di Gioia Tauro la cittadinanza ovviamente non vuole diventare la nuova pattumiera di tutta la regione e ci sono proteste su proteste ma la regione sembra andare avanti su questo fronte A Roma non è tanto diverso perché io ho a che fare con un sindaco che sia convinto che Roma ha bisogno di un inceneritore di 600.000 tonnellate è duro è difficile è difficile però per questo dico se è così la risposta migliore non è soltanto quella di protestare contro il termovalorizzatore di Gioia Tauro l'inceneritore di Gioia Tauro come noi facciamo le manifestazioni contro l'inceneritore di Roma poi bisogna essere capaci di fare le manifestazioni per o meglio di essere accanto ai per ai positivi al più agli impianti dell'economia circolare che vanno fatti vanno fatti la mia città parlo di Roma così non manco di rispetto non ho massimo rispetto Roma porta la propria frazione organica che io separo in casa diligentemente negli impianti di trattamento del Veneto cioè noi portiamo i rifiuti organici di Roma con i TIR in provincia di Padova ma vi sembra una cosa che risponde a un principio di ragionevolezza c'è un impatto ambientale devastante ma i soldi soprattutto restano lì cioè i soldi che il comune di Roma potrebbe ricavare dal trattamento dei rifiuti organici che io separo in casa per me sono un costo cioè io li pago per la municipalizzata di Padova che c'ha gli impianti sono un profitto che è un'assurdità quindi gli impianti di gestione anaerobica che sono quelli che consentono di trattare questi fanghi questi rifiuti organici riducendo veramente al minimo persino i problemi od origini chiamiamoli così le puzze ecco vanno fatti se questa è una regione in cui gli impianti dell'economia circolare non si fanno questa sarà una regione in cui è ovvio che si imporrà a un certo punto un'alternativa perché se no li piombi di nuovo nell'emergenza cioè la risposta qual è? quella delle discariche che continuano a crescere di volumi quindi per chi ha a cuore il fatto che non si facciano impianti sbagliati è fondamentale promuovere in maniera significativa la raccolta differenziata e gli impianti dell'economia circolare peraltro ci sono anche le risorse con i finanziamenti previsti abbiamo bisogno di risposte attive positive perché altrimenti soltanto con la protesta non ne veniamo fuori allora Gianni ti chiedevo su questo fronte degli impianti del piano di rifiuti della regione Calabria l'obiettivo di scarica zero non esiste perché gli stessi direttori generali dicono servono bisogna ancora smaltire in discarica cosa che invece l'Europa ci vieta diciamo come scommettere ancora di più sull'economia circolare quali impianti invece andrebbero incentivati qui nella nostra regione guarda quello che ha detto Enrico è assolutamente vero sicuramente il biodigestore rappresenta il futuro perché come dire rapporta un tipo di compost di altissimo livello e di altissima qualità che può essere tranquillamente utilizzato in agricoltura quindi l'economia circolare deve essere necessariamente supportata anche da leggi regionali che ne possano come dire far diventare un principio primario nel senso che da quello che è emerso con i comuni ricicloni in cui la differenziata in alcuni comuni della Calabria risulta oltre il 50% ecco che questo deve essere un primo passo per continuare su questo su questa strada su questa strada proprio per far sì che il rifiuto possa divenire veramente a zero è chiaro che ci vuole tempo però rispetto a qualche anno fa la situazione è molto migliorata quindi noi contiamo di proseguire su questa strada e soprattutto di indirizzare i comuni in questa direzione bene non so se ci sono domande dal pubblico io sì prego buonasera buonasera si parla si parla delle zone costiere eppure se pensiamo un attimo alla nostra terra dobbiamo pensare delle zone puntate in internazionale ci sono i barchi nazionali le armi in terra in che condizioni sono e poi io vedo che in montagna c'è un sacco di consumo di legna che vengono a stare dietro e che l'entatità non mi vengono a stare quindi un sacco di rimposcamento questa è la mia domanda grazie qualche dato l'ho comunicato prima quando ho dato il numero degli incendi boschivi negli ultimi cinque anni sono state incenerite aree di grande pregio anche dal punto di vista ambientale naturalistico è una sfida difficile quella dei parchi nazionali è una sfida complicata io ho avuto modo di conoscere e incontrare quando era presidente del parco nazionale della Spromonte Tonino Perna e devo dire che Tonino Perna era presidente del parco nazionale della Spromonte aveva avuto un'idea molto efficace contro gli incendi boschivi che forse conoscerete che è quella di invertire il sistema di finanziamento cioè non ti do contributi se intervieni perché il bosco brucia ti do contributi se impedisci che il bosco bruci cioè se si riduce la percentuale di aree boschive che vanno e c'è stato un crollo verticale degli incendi boschivi perché era evidente che si creavano delle convenienze molto terra terra banali non c'erano i grandi interessi mafiosi dietro invece ci sono inchieste penso all'operazione Stige anche questa abbastanza recente dove è stata rivelata un interesse diretto dell'Andrangheta nella filiera del legno nel saccheggio del patrimonio naturale sicuramente la Calabria da questo punto di vista rispetto al tempo che è passato un patrimonio che è straordinario in termini di risorse le ha messe in sicurezza dal punto di vista della tutela ambientale rispetto a prima con la nascita dei parchi nazionali il salto di qualità ancora non è stato fatto ma io lo dico da osservatore non da persona che ci vive cioè non sono diventati ancora questi parchi nazionali leva autentica di crescita economica dei territori delle realtà locali è un difetto che riguarda soprattutto le aree dei parchi nazionali del mezzogiorno alcuni modelli stanno emergendo ad esempio un parco nazionale che aveva delle difficoltà enormi era il parco nazionale del Vesuvio pensate che sul parco nazionale del Vesuvio la salita sul cratere era gestita legalmente per il 30% illegalmente per il 70% cioè il 70% dei visitatori del parco nazionale del Vesuvio entravano nel parco senza pagare il biglietto per salire su ma pagando in nero le guide turistiche chiamiamole guide turistiche è cresciuto tanto il parco nazionale del Vesuvio con un'azione di controllo di repressione delle attività illegali e di promozione delle opportunità economiche quindi il salto di qualità ancora non c'è stato c'è un'opportunità ad esempio ora per i comuni sotto i 5.000 abitanti delle aree interne che è la costruzione delle comunità energetiche e qui le energie rinnovabili l'idroelettico l'eolico il fotovoltaico fatto come Dio Comanda possono aiutare i parchi nazionali dovrebbero essere i motori delle comunità energetiche rinnovabili i parchi nazionali dovrebbero essere i motori della raccolta differenziata nei comuni che aderiscono ai parchi fino a quando non saranno in grado di fare queste politiche attive è chiaro che verranno percepiti come luoghi straordinari da visitare per chi li conosce attireranno un turismo al di sotto di quello che potrebbero attrarre non faranno crescere le opportunità di lavoro per i giovani soprattutto e per le comunità locali questo è il salto di qualità che ci chiede dell'ambiente prego qualche altra domanda ok allora penso che vi possiamo lasciare al prossimo appuntamento che si terrà in cortile adesso alle 17.30 grazie a tutti grazie grazie grazie